Hi guys, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale Io sono Luca, questo è RiffLab E... Oggi vi sono fatto un regalino E vi faccio un regalino Perché l'ho fatto principalmente per voi E... Ho comprato Le lenti Queste lenti sono dell'Amantis Ok? Filtrano il colore azzurro Così per molti di voi sarà un finalmente Vedremo bene cosa imbasca Credo che me lo disse Marco Un iscritto all'epoca All'inizio di tanti video E alla fine ce l'ho fatta, le ho comprate Stavo scegliendo quali fossero le migliori Credo che queste siano ottime sia per il prezzo Che per la qualità d'immagine che ci danno E... Adesso le vediamo, così vediamo la differenza Vi faccio un unboxing review Di sei lenti Così le vediamo insieme E... Niente, ci spostiamo sul tavolo Così vediamo, dai Ok ragazzi, danno Le lenti ce le abbiamo qui Ci vengono in questo pacchettino Ok? E... La Mantis assicura una buona qualità d'immagine Ma adesso lo vediamo poi dopo Con... Con le proviamo e vediamo come vanno Intanto, cosa porta questo scatogno? Minuscolo il pacchettino Però giustamente che non deve Chissà che contenere chissà che cosa Però il pacchettino include il supporto per le lente Ok? A forma di pinza Adesso lo vediamo Una lente per fare delle macro a 10x E... Un... Una lente di colore giallo Una lente di colore ambra O arancione, si può dire E... Una lente, vabbè Un... Uno straccetto piccolino Per pulire le lenti Quindi... Cacciamo tutto fuori Così vediamo Che cosa ci porta Così ce l'abbiamo bello sistemato Ok, allora Ci viene, vabbè Quello straccetto che vi ho detto prima Che è un panno Per pulire le lenti Quindi questo va benissimo Ci viene ottimo Poi la pinzetta Come ho detto Che è una pinzetta normale corrente Con... Vedete qui i tre fori Per le telecamere Dello smartphone O della tablet Del tablet Che utilizzate Che volete utilizzare Per fare le foto Però è comodissimo Perché appunto Porta i tre fori Quindi si può bilanciare bene Per far sì che Metta a fuoco Poi dopo la lente E... Credo che l'unico Cellulare Non... Smartphone Non supportato Sia Google XL Però Non ne sono sicuro Più che altro Per la forma Della telecamera Perché credo che C'ha un... Un'infocatura Un po' più larga Quella del... Galaxy XL Però Poi casomai Lo metto nella descrizione E... Che più Porta Da tutti i due lati Sia da questo qui Lo vedete che è un po' più traslucido E anche da questa parte Lo porta Che praticamente È fatto di silicone Quindi Non rischiamo di graffiare Lo smartphone Non rischiamo di graffiare Né la parte posteriore Né la parte anteriore Dello schermo Diciamo Dello smartphone Anche perché poi Questa andrà così Andrà messa così Con le telecamere appunto Che escono da questi fori Questa è la pinzetta Comoda Mi sembra abbastanza resistente Quindi Ottimo Io ho comprato queste lenti Perché anche il prezzo Di queste lenti Non è eccessivo Costano una quindicina d'euro Dalle 15 alle 17 Dipende Li potete incontrare Un po' di prezzi differenti Però Diciamo Per quello che devono fare Vanno abbastanza bene Allora La prima lente Che ho aperto Questa qui È quella di colore Ambra o azzurro Scusate Mio arancione E già si nota la differenza Se lo mettiamo Guardate davanti alla telecamera Se guardate l'acquario Si vede già la differenza Anzi se Già La passiamo davanti Alla telecamera Ovviamente I colori Sono un po' più Giallognoli In questo caso Arancioni Un po' più arancioni Però Diciamo che è normale Perché appunto Finistra Sì i colori azzurri E diciamo Il bianco Lo fa diventare Appunto Di tonalità arancione Perché Diciamo È arancione La lente Quindi non filtra il bianco E questa è l'arancione Già si vede che È perfetta Poi dopo Casomai Ci avviciniamo all'acquario E lo vediamo bene Quindi una lente arancione La lente Questa qui Gialla Che è quando Non abbiamo Diciamo Azzurri Elevati in vasca Blu elevati in vasca E quindi Comunque con questa Anche si vede la differenza Infatti Come Come notate Anche i bianchi Diciamo Non tende a farli Diventare Troppo Troppo Gialli Poi Poi L'ultima lente Che è quella La Della macro Ok Eccola qui Questa ovviamente Non vi posso far vedere La differenza A questa distanza Però Questa Viene benissimo Per fare le foto Macro A una distanza Più o meno Di 20 cm È inutile Che ve la metto davanti Perché non vedete Niente praticamente Anzi Vedete tutto al contrario Giustamente E Cazzo E Niente Questa qua è ottima Per farle macro Le foto da vicino Quindi Poi dopo caso Vi lascio qualche foto Che faccio con questa lente Per vedere meglio i coralli E Niente raga E ci avviciniamo All'acquario Così lo vediamo Ah giustamente Non vi ho fatto Di come si Inseriscono le lenti Ma semplicemente Prendiamo la lente Prendiamo Il pezzettino C'ha Diciamo Un aggancio Appunto Che si avvita Lo avvitiamo E basta E ci abbiamo già La lente Vai ci avviciniamo All'acquario Dai Ok ragazzola Allo così E come si vede L'acquario adesso Quindi con le luci azzurre Come di solito Registro normale E così E come si vede Con le lenti Queste con la lente Arancione Ok Questo con la lente arancione Si vede un casino La differenza Che ci filtra Davvero tutti I colori azzurri E sono colori Quanto meno Più simili Alla realtà E forse perde In alcuni casi Come per esempio Nel caso della fungia Perde Adesso lo vediamo Però Quello che appunto Mi sono accorto In questi giorni Che con il colore Arancione Perdono tantissimo I veri colori Dei zoanthus O meglio I veri colori Che vediamo noi In acquario Con le luci Di casa Perché ovviamente Il colore naturale Con Diciamo Luce solare Solamente Non vedremo appunto Tutte le fosforescenze E le fluorescenze Che hanno Questi coralli Però appunto Comunque sono Quanto più simili Alla realtà Per esempio Questa è a cantastrea Io le vedo Questa è qui di destra Molto più rosse cariche E questa è qui di sinistra L'arancione Anche bello carico E in più si vedono Pure i polipi Con le punte arancioni Che qui Si vedono Ma perdono Perdono un casino La fluorescenza Che emettono Però Comunque Diciamo che Più simile alla realtà È con la telecamera Con la lente arancione E Questa comunque Questa si vede sempre bene A me piace un casino Le ufilia Le ufilia mi fanno impazzire Ancora Non ne ho messe altre In acquario Ma sto aspettando Che arrivi Qualche ufilia Davvero bella Da queste parti E La Duncan Si vede perfetta E Devo far vedere Quello che dicevo Della Della fungia Che Si è stupenda Si vede benissimo Però appunto Perde tutto il colore Arancione Che ha Sembra quasi gialla Con le punte azzurre Che è una figata E qui perde Diciamo un po' Diciamo L'effetto La fosforescenza La fluorescenza Che emette Con la luce azzurra Però Si vede Si vede davvero bene Si vedono Le alghe dietro Che forse in alcuni video Prima Non riuscivate a vedere E Si vedono molte più pose Si vede molto meglio Per far vedere un po' L'acquario Come gira Giustamente Non vedendolo Con la telecamera O meglio Con la lente E vedendolo con gli azzurri Perde un po' Diciamo L'acquario Scusate Scusate E qua invece L'altra Caliendrum Poi c'è un altro Fragg piccolino I polivi Si vedono meglio C'ha alghe Sul tessuto morto Però vediamo Se con il tempo Si tolgono E qui c'è un altro Si vede la differenza Ok ragazzi Adesso montiamo La lente gialla Ok E si vede comunque Già la differenza Con la lente Arancione E filtra Sempre gli azzurri In maniera ottima Li filtra davvero bene E i coralli Si vedono Perlomeno io da qui Li vedo Che mettono un po' Di Fluorescenza in più Fosforescenza in più E Per esempio Questi qua Che abbiamo visto prima Io adesso Li vedo Molto più colorati Oltre che pure Abbastanza definiti Rispetto A come si vedeva Con l'arancione Con l'arancione Si vedeva bene Ma appunto Filtrava anche Troppo Le Fosforescenze Che hanno I coralli In vasca Ok Quindi La lente gialla Mi sembra Migliore E Vedo appunto Tutti i coralli Che mettono La fluorescenza E si vedono bene Si Si vede Si vede Diciamo più simile A quello che io Vedo in vasca Rispetto Appunto All'arancione Però Appunto Vediamo qua Vedete qua Si vedono meglio Le fosforescenze Arancioni Delle punte Dei polipi Di questa Cantastrea Si vedono meglio Rispetto a Quell'arancione Che ci filtrava Completamente Il colore E La fungia Sempre Io da qui La vedo Meno gialla Meno gialla E vediamo se si vedono Le fosforescenze Le fluorescenze Dei polipi E forse Già si vede Di più La fluorescenza Di questi polipi Intanto Lei si sposta Tranquillamente In questa zona Va girando Una volta La trovo Un po' più sotto Una volta La trovo qui Una volta La trovo qui Si muove Tranquillamente In quella zona Sta cercando Secondo me La posizione Migliore per lei Per poi Sotterrarsi Perché questi Coralli Tendono a Sotterrarsi Sulla sabbia E poi Quando è giorno Salire Fuori Che più Che più Che più Niente raga Mi sembra Che si veda Tutto in maniera Migliore Quindi Anche il rosso Del discosoma Che c'ho lì Si vede Si vede Si vede meglio Poi la cosa Figa Che pure i pesci Si vedono E si apprezzano I colori Dei pesci Intanto lui Spunciando la roccia Mi sembra Che si vedano Meglio Tutti i colori Nettamente meglio Ci voleva Questo Upgrade Del canale Perché così Riusciamo a vedere Meglio E riuscite a vedere Meglio Quello che ho In vasca E come si vede Più o meno Come lo vedo io Ed è una figata Perché non perdono Troppo i colori Appunto Non vengono ammazzati Dagli azzurri Si vedono le alghe Che di solito Non vedete voi Si vedono qua dietro Quindi Quindi Questo È ottimo Perché vi dà anche L'impressione Di come Avere un acquario In casa Se lo vedete In video In foto Di qualche Super esperto Che vi mette Una fotona Però poi Dopo non è filtrata bene E non si vedono E non si vedono appunto Le altre cose Dietro Perché la luce azzurra Tende ad ammazzare Quello che Non Riusciamo a vedere Poi dopo Noi In vasca O quello che vediamo Noi in vasca Però appunto Qui io vi voglio far vedere Quello che davvero C'ho in vasca E come sempre dico Spero che vi sia stato utile Questo video E ci vediamo Al prossimo Video Wow